Una minaccia silenziosa senza odori né sapori è per questo molto pericolosa. Il monossido di carbonio però si può combattere ma soprattutto si possono prevenire i sintomi. Due gli elementi da considerare, siccome come diceva la dottoressa Pavani è una malattia molto subda, causata da un gas inodore, in colore, che non crea irritazioni, gli elementi da considerare sono due. A, la catena dei soccorsi sulla quale non mi dilungo, che comprende la chiamata tempestiva, quando si riconosce i primi sintomi, che diceva sempre la dottoressa, e poi successivamente pronto soccorso e terapie intensive. Ma la vera forza è la prevenzione che chiunque può fare. Prevenzione cosa intendiamo? Questo è un gas che viene spregionato dalla combustione e quindi può essere spregionato da stufe, stufa pellet, stufa legna, piuttosto che i caldae, piuttosto che i funghi, quelli riscaldanti, eccetera. La corretta manutenzione di questi apparecchi, evitare di utilizzare apparecchi non idoni agli spazi chiusi, piuttosto che all'avvisaglia dei primi sintomi, aprire subito le finestre, evacuare, stare attenti ai sintomi, soprattutto se colpiscono più come è successo, più persone nello stesso momento, fa veramente la differenza. Perché per quanto sia efficiente, efficace la macchina dei soccorsi, la macchina dei soccorsi sempre arriva un passo dopo all'evento stesso. Quindi ridurre il rischio che l'evento possa avvenire fa veramente la differenza.